oh ragazzi ma lo vedete quello lì in fondo? ma aspetta come lo vedo? ah no dai Jack Jack è uno stronzo quello sai madonna mia ma te lo ricordi? era un nostro fan cioè non è manco venuto a salutarci che pezzo di mezzo era adesso se ne andava e non si torna più cioè ma c'è un uccello minchia che uccello che ha oh no sta tirando i pokemon ragazzi oh ma questo ci vuole stare oh ma questo ci vuole sfidare ma io lo ammazzo ma io lo ammazzo fermatemi 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 oh venite con me ragazzi venite con me venitelo a picchiare ah andiamo oh te beccati questo no ho sbagliato tiè vieni io non posso fare ma che è il nostro fan ma io ci seguo ancora ci sei oh oh ha detto che ci segue toglietti pokemon toglietti pokemon ha detto che ci segue veramente ci segui ma si condivido anche i vostri video ma tu sei jackfire il caccacazzo amico del bagarozzo è vero è vero jack peperozzo fa rima con pisellozzo con pisellozzo grande abbiamo trovato un'altra rima ma sei un grande jackfire bene ora me lo jackfire verrà in giro con noi a cercare i boss in questo video andiamo io non vengo possiamo andare allora andiamo in giro a cercare i video ragazzi sigla e ci vediamo tra poco let's play arigato jackfire arigato pure a te fai pure le pennette se ci stai oh jackfire arigato pure a te fai le pennette che strontate no comunque ragazzi ho trovato un boss ora andremo in giro a cercare boss ma me lo da sottoterra quindi non è buono non solo io trovo il boss che mi dice e poi subito si toglie eh si no no pur a me li da eh dobbiamo andare dobbiamo andare insieme a a cercare boss mettiti sul tuo cello ma insieme no io già sto là io ho già stato al boss ok allora andiamoci lì a vieni con me jack no 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 nel suo cello ma io mi parlo un po' con il mio cello livello 05 lo vuoi io mi parlo un po' con il mio cello dai andatemi come ti perdi dai muoviti siete sfacciati no povero sei sfacciato ho rubato il disco 1 cos'è che hai rubato? il disco 1 pregate via 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 che disco hai rubato? via via uno skill scappa 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 ho pagato ho pagato e me l'ho rubato io via 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 anche io gli ho l'altro ieri ho fatto cosa hai fatto? non ho capito gli ha rubato praticamente un disco che gli era accaduto a 1 in pratica stavano facendo uno scambio soldi è un pezzo disco è un pezzo di merda quanto vale quel disco che disco è? dimmi il nome della skill è energy ball fa anche voi l'ha laggata si l'ha fatta anche a me dovrebbe essere tipo una pokeball no è una mossa di tipo si era ah è un mt ho capito ci dice mi ha truffato hai visto che gli ho trovate il disco no dai peccato voglio la restituire no non fai da meno a meno metto su i bisaudi no è migliora dai sei un pezzo di merda dai lo metto sui bave lo so lo metto sui bave come si deve ma mi riesce a vendere l'ho ahahah sono troppo piii ragazzi scrivete nei commenti se piacca è un pezzo di merda deve restituire il disco l'intervento e mi sono pregato il disco e me ne sanno vabbè ma se non se ne sono accorti eh si ma può vero nel video se ne accorgono però non lo dovi dire che cazzo sei deficiente sei bloccato ma mi è morto a giù ho fatto scelta sopra tutto uccello oh un boss in base eh ma sta sempre sotto terra il boss in base no non sto sotto torre sotto torre allora ragazzi io farei una cosa appena trovo un boss lo stanno uccidendo già io lo master di merda riprendo a reccare appena trovo un boss nel frattempo ne vado a cercare uno in giro così vi facciamo vedere anche come funziona questa mod magari nei prossimi episodi vi spieghiamo come installarla a tra poco trovato il boss ragazzi trovato 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 culo oddio oh se non ce la fai tu ce la faccio io è la mia è la pre evoluzione di un pokemon che ho mi sono rubato mi sono rubato eh si la cosa più difficile dei pokemon non è combattere ma è prenderli ok boss di livello 53 culo vieni 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 che ti massacro ma se non metti massacro no guarda già gli hai tolto così tutta la vita sì vabbè c'ho il pokemon bestia eh hai vinto c'ho il pokemon bestia dove sta? dimmi che ho preso due pietre anche le vendo quanto hai fatto? lol ho tutto mi ha fatto diecimila livelli eh? no mi ha fatto tipo cinque livelli ho i condivisori di esperienza e quindi mi fa subito i livelli bene il prossimo lo faccio io vengono the user attack in una prova fortuita over the time in one can fall asleep eh si fai un cambio di questo ma si che merda ma dai un etere di merda chi lo vuole lo vendo io 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 a quanto non lo faccio? un 1 un 1 su in sella su pokemon andiamo a cercare un altro boss non so non trovo niente che c***o? scusami sono buttata addosso non mi sfidare dai oh un sano slash che carino oh non esce più fuori oh non riesci più a farlo non riesci a farlo uscire perchè qui non ci sono pokemon oh finalmente non ci sono pokemon forse non ricarichi tu non è possibile non ci stanno mi stai seguendo Jack? no non sto seguendo nessuno no Jack Jack eppure non lago aspetta ma non trovo pokemon non mi spunti neanche al pokeball eh ma perchè sei sfigato cerca di andare tu sei in un bioma montagnoso eh ma X-ray ma dovevi che sei? eh i biomi montagnosi sono andato sempre qui e puoi venire ti do le coordinate eh 2 meno 2340 meno 439 71 stop l'episodio mi incontro con tre e con te andiamo a cercare un'altra cosa con tre dopo ragazzi guardate un po' cosa ho trovato un cagnetto molto molto carino fatemi togliere la musica come si chiama? il cane si chiama ehm brodwin no hondom hondom no ma è troppo bello ora provo a catturarlo lo so vedete poi troverete vedete oddio le ho fatto un po' tornare ma mentre coordinate e coordinate mo te le dico allora meno 2243 più 224 67 è possibile che trovo boss arrivo vicino al boss uno snorlax ragazzi sto per qua sto quasi per catturare questo pokemon è fantastico vai gritball scelgo te gritball scelgo te gritball scelgo te gritball scelgo te più più 224 che cavolo è uscito qua mito la prima master ball che c'ho a catturare lo snorlax ultra ball vai ultra ball scelgo te ecco la mia scopo 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 un po' cazzo cazzo è monferno ma ce l'ho io no monferno l'altro il cane è questo questo si ma mi sta fottendo tutte le pokeball è monferno è sparito sottoterra mi sa vuoi vedere l'evoluzione di monferno inferno inferno l'inferno l'ho catturato ho catturato questo gg gg guarda jack tu 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 no che bello c'è un cagnetto fighissimo c'è un cagnetto come si chiama? si chiama hondon 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 io un cubone ciao cubone dove c'è stato ecco oh no è maro l'evoluzione oh vediamo se ce l'ha cosa c'è qua in questo villaggio nel fabbro che te ne fai eh magari ce la cesta ok l'acqua hai creato un albero non può fare niente forse chi mi ha sfidato è un po' che un albero mori oh che cosa è quel pokemon strano quale una ribellula no 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 è un uccello no è un pesce prova a catturarlo tu dan dune sparce lo vuoi catturare tu io non ho pokeball non hai pokeball ah ma io ho non so se ci riesco proviamo io fugo proviamo eh vieni vieni qua brutto schifoso che cosa sei se non se non essere troppo cosa hai il verde cos'è il verde si è opproprioso si cos'è il verde ma un vermo Boh che ne so che cos'è il verde no è una ribellula simo intanto mi sta facendo male questa ribellula di merda oh ciao villagero come stai è un rosmeraldo per 10 biscotti me l'ho ucciso ma che c'è vai con uto 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 utout uto 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 cos'è il verde E' un leggendario basso Si è addormentato E' un boss scarsa Dici una stranzata che ho fatto E poi ho catturato sta livello la schifosa Lì c'è un altro Mami ho visto dell'acqua del doppio D'acqua del doppio D'acqua del doppio D'acqua del doppio D'acqua del doppio Da sopra il mondo Sono sceso e sono morto Ho trovato un boss L'hai trovato? Si Grande E' blu Com'è? Blu Non mi chiedo Come si chiama? E' beudico E' beudico E' beudico E' beudico No non lo proprio Oddio è un golden Sta sott'acqua allora Sta sott'acqua Si è pesce Dammi le coordinate Dammi le coordinate Dammi le coordinate Dammi le coordinate Meno 1741 Io non ho trovato 3 di fonita 741 poi 64 Poi C'è 1178 Poi Stai andando tu hai ma Un grande pacchetto Si Ho trovato le mucche Ora Ora lo sfido Oddio le mucche che belle Robi come si chiama? 1700 come hai detto Meno 1741 64 1678 Ma mid? Ma mid? Un farfetch Che no che cos'è? Che cos'è sta cosa? E' uno E' uno String 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 Un star String Una star Una star di Hollywood Quello che ho io è l'evoluzione di quello mi sa oh fatti vedere ah Spirrow non sta raptor non ci vuole niente a battere io un rattichetto di merda se bloccati anche in questo server guarda c'è una pokeball gigante vai 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 dalla pokeball gigante cosa è sta roba meno 1700 1098 meno 1170 cosa è una capra una capra questa quella dei simpson è z mi dice di prenderlo ti dice di prenderla capra prendi fluffy 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 ah questa merdina qui questa rosa ma lo senti ti è vicino allo sgolpio l'ho trovato io stoppo di nuovo l'episodio ragazzi al prossimo boss che trovo lo registriamo registriamo il combattimento e ci vediamo poi direttamente nel prossimo episodio facciamo così ragazzi l'abbiamo trovato anzi ti sento roba sì ti sto sentendo dimmi scarmoli che scarmoli è il mule al veleno vabbè se vuoi lo sconfigo io anzi fallo sconfiggere a me ti do il drop ti do il drop io dai no a me servono i soldi è il drop te lo vendi non ti da soldi ti do il drop ti do quello che trovo tanto vuoi capito te lo sconfigo io è diventato più grande mince di livello 73 sti cazzo ma non ce lo fai tu posso provare non so se ce lo fai ma se vuoi dubbio no si ce lo fai no no ce la faccio eh però sti cazzo è 73 qualcosa me la dai pure a me dai ti dire l'ex no non so chissà quanta ex che ti do 10.000 monferno livello 32 tu ti ho fatto 1 2 3 3 di me gli schermo gli ha fatto un livello è un boomerang no questo qua è un mt non mi ha dato un cazzo non mi ha dato un cazzo mi ha dato roba che non puoi vendere la vuoi aspetta prova dammi questo 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 lo puoi vendere e ti danno 500 ti ha dato questa questa bolla per i pokemon veloci bella questo e questo va bene la caramella non dividiamo niente perché tanto cioè è un cazzo non puoi vendere cioè lì guadagni 500 da quella caramella lì come si chiama caramella in inglese io chiuderei Candy Candy è scritto ragazzi io chiuderei qui l'episodio se ti sei divertito a guardare questo video e vienici a trovare sul server metti un pollice in su commenta come stanno facendo tanti altri come te che ci guardano e soprattutto condividilo un saluto e un ringraziamento ufficiale ad un nostro fan che abbiamo finalmente ritrovato in giro per l'Italia e ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao ciao